La grande novità di CBI 2013 è che Enel Energia sarà il primo grande fatturatore ad adottare Sibyl. Quest'anno abbiamo avuto questa importante testimonianza dopo quasi due anni di lavori. Dal 2014 Enel Energia partirà nell'offrire ai propri clienti, cittadini, la possibilità di pagare la bolletta non soltanto secondo i canali tradizionali ma attraverso Sibyl. Quindi noi avremo questo strumento che si affiancherà, quindi Enel Energia affiancherà agli strumenti tradizionali anche il Sibyl che consentirà al cittadino non soltanto di visualizzare il proprio conto spesa ma anche di pagare in logica online e secondo il device a disposizione. Quali sono le banche che saranno in grado di offrire Sibyl? Abbiamo l'impegno di 34 istituti finanziari aderenti al consorzio appartenenti al consiglio direttivo. Nella fattispecie abbiamo Intesa San Paolo, Unicredit, Banco Popolare, Banca Popolare Etruria Lazio, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ICREA e l'Istituto Centrale delle Banche Popolari che dal 1 gennaio 2014 saranno in grado di offrire il servizio ai propri clienti. Questo servizio vedrà poi via via un processo di adeguamento e quindi di ampliamento dell'offerta su tutti gli intermediari del consorzio fino ad arrivare al 1 luglio 2014 con 612 intermediari. Qual è il mercato potenziale? Il mercato potenziale sono 630 milioni di bollettini emessi su base annua. E se consideriamo che oggi soltanto il 3% è intermediato dal sistema finanziario, quindi ciò significa avere, attendere una potenzialità del 97% e quindi milioni e milioni di bollettini che potranno essere a questo punto pagati in logica evolutiva. Quindi innovativa e soprattutto, ricordiamoci, si dà la possibilità al cittadino di poter sfruttare nuovi canali e di poter scegliere di compiere un pagamento di un bollettino non solo in logica fisica, quindi sulle reti tradizionali, ma soprattutto in mobilità e comodamente senza fare fila e soprattutto risparmiando molto tempo da caso o comunque secondo le logiche di internet banking ricevendo ovviamente immediate conferme dell'avvenuto pagamento. Quali sono i vantaggi per il fatturatore? Il fatturatore ha da un lato la possibilità di offrire al suo cliente nuovi strumenti per pagare la bolletta e questo può creare ovviamente un elevato tasso di fidelizzazione da un lato, ma soprattutto il vantaggio consiste proprio nel poter ricevere giornalmente e proprio in logica online tutte le rendicontazioni dell'avvenuto pagamento e questo abiliterà proprio l'aggiornamento, ripeto, online di quelle informazioni attribuite a ciascun cliente, quindi questo significherà sfruttare le infrastrutture che il sistema bancario ha sviluppato per il Sibile e mi riferisco in particolare ad una rete online implementata proprio in questo anno da un lato e dall'altro lo sviluppo di indirizzamento centralizzato della messaggistica finanziaria, quindi gli asset a disposizione del consorzio. Un altro tema in evidenza al CB 2013 è la fattura elettronica. Questo è stato pienamente riconfermato dall'ingegner Caio nel ricordarci quali sono le priorità, le tre priorità dell'agenda digitale. Una di queste priorità è proprio la fattura elettronica e su questo noi come sistema finanziario, come consorzio CB siamo molto orgogliosi di poter ancora una volta confermare la capacità di un sistema di essere non solo pronti ma di poter favorire, spingere e sostenere la pubblica amministrazione in questo percorso ovviamente di innovazione. Perché? Perché su questi temi noi lavoriamo già dal 2003 proprio sulla fattura elettronica, guardando anche oltre confine, cercando di implementare soluzioni tecniche, semantiche, ovviamente di standard, ma cercando quindi di creare quella cultura che è proprio quella che oggi ci fa dire che un sistema è pronto. Con l'interoperabilità di oltre 612 intermediari siamo capaci di poter garantire questa trasmissione di fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione già da fine anno.